È stato colto una parte dello spirito dei romanzi e questo è un ottimo risultato. Vedere questa storia, io non la chiamo fiction, la chiamo una storia tratta da un libro bellissimo di Gianrico Carrofiglio che è L'estate è fredda, un periodo particolare della nostra città e del nostro territorio. In fine anni 80-90 la nascita della Sacra Corona Unita, il contrabbando, le varie bande di malviventi e questo gruppo di carabinieri che sta combattendo in prima linea contro questa realtà abbastanza difficile. È legato anche ai luoghi dove si svolge la storia? A Bari, assolutamente. A Bari, alla baresità, al nostro dialetto, al nostro modo di essere sia divertenti ma anche tosti. Gli eroi di carta cosiddetti quando vanno sullo schermo si trasformano nel giusto che sia così. Sono diversi da quelli che erano nei libri ma per certi aspetti se l'operazione riesce sono anche uguali.